Buona domenica 10 di ottobre 2021, cari risparmiatori banche a Venete, sempre ufficio dell'associazione, noi che credevamo, come vedete, sempre sul pezzo. Allora, visto le decine e decine e decine di richieste e di spiegazioni che abbiamo ricevuto dopo l'ultimo video, voglio fare due appunti molto veloci ma molto importanti. Allora, sì, è vero, c'è stata la rimissione in Corte Costituzionale del decreto che li chiudono le due banche da parte del Tribunale di Firenze, cosa molto molto importante che, ripeto, stiamo valutando con i nostri avvocati, stiamo guardando con i nostri avvocati, stiamo guardando con molti esperti per avere un quadro più specifico e poter poi parlare in maniera concreta. C'è stata la chiamata, come abbiamo annunciato, ce l'abbiamo, eccola qua, c'è stata l'autorizzazione, la citazione di una responsabilità civile di banca intesa nel processo sorato che è quello che è stato stralciato dal canale principale del crack delle banche, popolare di Vicenza, zone in, quindi in questo canale è stata autorizzata la citazione di banca intesa. Questo cosa vuol dire? Molto semplice, che c'è un indirizzo diverso, oggi una sensibilità diversa da parte della magistratura per quanto riguarda il decreto che li chiudono le due banche venete. Questo per noi è molto importante? Sì. Perché apre nuove prospettive? Probabilmente sì. Dobbiamo aspettare i prossimi giorni per vedere anche eventuali evoluzioni. Possiamo fare qualcosa noi? Sì. Che cosa? Ve lo diremo prossimamente. anche in un'assemblea che abbiamo intenzione di organizzare, quindi tenete già le orecchie alte perché lo faremo. Tra l'altro in questa nuova assemblea parleremo anche del FIR e dei risparmi che ci sono nel FIR perché sapete che il FIR dal 30% fino al massimo di un miliardo e mezzo è stato messo a disposizione ma siccome ci saranno dei risparmi all'interno del FIR quasi certamente, questo 30% così come dice la legge potrà essere innalzato e noi valieremo, staremo attenti che questo residuo che c'è all'interno del FIR venga ridistribuito tra risparmiatori aventi diritto delle banche liquidate. Abbiamo già chiesto appuntamento a Roma, abbiamo già fatto un sacco di cose che non sto qui a spiegarvi quindi appunto ve lo diremo, organizzeremo un'assemblea a proposito. Questo è questo quanto vi dovevo, il FIR sì è in ritardo rispetto ai tempi che ci erano dato per la liquidazione perché abbiamo detto che entro settembre avrebbero finito il primo canale, così non è. Siamo quasi a metà ottobre, hanno liquidato l'80% del primo canale. manca il 20% da liquidare del primo canale, il 20% delle persone, non delle cifre, delle persone quindi il primo canale forfettario liquidati gli aventi diritto all'80% degli aventi diritto quindi su 120.000 l'80% di questi hanno avuto i soldi, manca il 20% di 120.000 questo è, manca il 100% poi il secondo canale non forfettario, quelli che sorpassavano le barriere di reddito e di patrimonio mobiliare, quelli vanno rimborsati tutti, sono 20 e rotti mila soggetti devono ancora essere rimborsati sempre al 30%, chiaro? Bene, il residuo che ci sarà, lo ripeto, andrà a aumentare questa percentuale del 30% ma siamo sul pezzo a sorvegliare, a vedere e capire quanto sarà risparmio perché ancora da Consap non si è riusciti ad avere una notizia chiara al di là di quello che dicono tantissime associazioni che sono prostrate al potere che dicono sempre brava Consap, bravi tutti, bravo Pinco Pallino, bravi tutti fra poco dicono bravo anche, non so, al CdA delle banche perché questi ormai, anzi, lo hanno detto in tempi non sospetti alle assemblee e lo ricordo anche comunque, ribadisco, noi siamo sempre sul pezzo come vedete questo video è molto veloce dateci una mano a divulgarlo perché questa nuova sensibilità da parte della magistratura per quanto riguarda il decreto che ci ha liquidato ci apre nuove prospettive condividete questi e altri video per le prossime notizie collegatevi ai nostri canali YouTube noi che credevamo pagina Facebook, noi che credevamo oppure canale Telegram, noi che credevamo News questo è quello che vi dovevo, grazie mille buona domenica grazie a tutti